Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda? L'uomo esce da Tamara senza averlo saputo. Fuori si estende la terra vuota fino all'orizzonte, s'apre il cielo dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole, l'uomo ha già intento a riconoscere figure. Un veliero, una mano, un elefante.